Ciao ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui, come avrete capito da titolo e copertina, per reagire alla nuova MT-09 di casa Yamaha. Come ben saprete, io sono un felice possessore della MT-09 SP del 2020, produzione del 2017, e quando l'ho acquistata non sapevo della prossima uscita del nuovo modello. Ma col senno di poi, sono contento dell'acquisto che ho fatto. Ora, tutto l'internet ne sta parlando, tutto il mondo ne sta parlando, questa moto ha un design abbastanza discutibile. Può piacere, ma la maggior parte è evidente che non piace. Lo sto dicendo non perché appunto me ne sto andando per un'idea, o perché semplicemente lo penso io, ma perché appunto tutti quanti stanno esprimendo il proprio dissenso sul design della nuova moto. Ora, a prescindere dal design, andremo a parlare appunto e a vedere insieme cosa hanno cambiato con questo nuovo modello, e se magari questo nuovo design è giustificato dall'implementazione di qualcosa di nuovo, oppure semplicemente hanno voluto buttare via la possibilità di vendere una nuova moto. E niente, cominciamo. Allora, dati tecnici alla mano del sito ufficiale Yamaha, dopo la presentazione ufficiale appunto della moto, possiamo vedere che come caratteristica principale abbiamo un nuovo motore. La nuova MT-09 monta sempre un CP3, ovvero un motore crossplane classico Yamaha, da 889 cm³, quindi sale la cilindrata rispetto al modello precedente che è di 847 cm³, a favore dell'implementazione dell'Euro 5. Purtroppo le moto devono avere questa classificazione, e quindi per non perdere prestazioni e avere un motore che fondamentalmente inquina di meno, quindi più castrato, sono dovuti salire con la cilindrata. E, oltre alla cilindrata, sale anche appunto la cavalleria, che, se non erro, dovrebbe essere di 5 cavalli in più. La vecchia Yamaha MT-09 aveva 115 cavalli, adesso invece ne dichiarano 120, se non erro. Non riesco a trovare il dato, non c'è ancora, ma si parla di 5 cavalli in più. Oltre al motore, come si può vedere dalle immagini, ovviamente chi non ne capisce non se ne rende conto, però è molto palese appunto il cambio del telaio. Yamaha adesso ha deciso di montare un nuovo telaio leggero in alluminio presso fuso, e su questo non posso dire nulla, perché andrebbe comunque provata per vedere se questo nuovo telaio riesce a dare sensazioni diverse, quali stabilità, qualsiasi cosa. Il telaio non è come il motore, non possiamo avere un dato, quindi va provata la moto e espresse le emozioni che dà il nuovo telaio. Oltre a questo abbiamo un IMU o IMU a 6 assi e sistemi di assistenza al pilota sensibili all'inclinazione, quindi molto probabilmente è stata implementata dell'elettronica in più. Lo vediamo anche dal nuovo display TFT a colori da 3,5 pollici. Nuovo faro anteriore a led bifunzionale compatto, cosa che ha fatto discutere il mondo, questo faro che non si può guardare a parer mio. Il faro dell'MT09 modello 2017-2020-2019 è qualcosa di spettacolare, veramente bellissimo. Lo potete vedere dalle mie foto su Instagram, vi invito a seguirmi su Instagram. Però hanno deciso di cambiarlo, non si sa per quale motivo, per me hanno fatto uno sbaglio incredibile. Cambio elettronico Quick Shift. Stiamo parlando del modello base, non della versione SP. La versione SP non è stata ancora annunciata e la versione base parte già con un Quick Shift, quindi cambio elettronico, soltanto in salita a quanto si capisce. Vedendo però dalle immagini del contachilometri, del quadro strumenti, si può vedere la scritta QS con freccia giù e freccia su. Quindi è da vedere se è possibile implementare il Blipper stesso appunto in Yamaha, oppure il cambio appunto è dotato anche di Blipper di serie. Ma non credo. Cerchi Spinforged leggeri. Quindi abbiamo dei nuovi cerchi montati sulla 0.9 e sono a quanto pare alleggeriti. Nuove sospensioni regolabili. Non so se parla semplicemente della forcella o anche del mono posteriore. Fatto sta che a quanto pare sul modello base avremo delle sospensioni regolabili. Una novità molto importante che avrei tanto voluto sulla mia MT-09 SP è appunto la presenza della pompa radiale sul freno anteriore. Diciamo che ormai fare uscire delle moto con la pompa assiale e i tubi in gomma non è proprio una gran scelta, soprattutto per il segmento di moto di cui stiamo trattando, quindi comunque moto abbastanza potenti. Un impianto frenante adeguato non sarebbe male. Diciamo che i dati maggiori, più importanti, sono questi. Quindi che dire, a livello di dotazione tecnologica e prestazionale questa moto promette abbastanza bene. Abbiamo potenza in più e a quanto pare stabilità in più perché con un nuovo telaio leggero, cerchi leggeri e sospensioni regolabili guadagniamo molto probabilmente sia maneggevolezza, sia agilità, sia anche forse controllo e stabilità. Ma le brutture di Yamaha diciamo che non finiscono qua. Oltre al faro parecchio discutibile, hanno fatto, a mio parere, un altro obbrobrio. Lo scarico, lo scarico originale. Allora, lo scarico originale sull'MT09 base ESP, modello precedente, quello che ho io, non era nemmeno così malvagio. Era comunque pur sempre uno scarico originale, però esteticamente almeno non era male. Questo qua non si può guardare, è veramente allucinante. Una latta buttata così là sotto con... no, cioè fa cagare. Hanno anche deciso di cambiare il portatarga. Questa cosa magari possiamo passarla per buona. Hanno deciso di togliere il portatarga sopra la ruota posteriore e l'hanno messo appunto sotto la coda della moto. Differenzazione comunque abbastanza apprezzata, dai questa, magari l'unica cosa positiva. E niente, pareri per ora abbastanza negativi. Questa moto esteticamente non mi fa impazzire. Va sicuramente vista da vicino e provata prima di giudicare come per qualsiasi altra cosa. Però a primo impatto non mi è piaciuta. Come non è piaciuta la maggior parte del popolo alla fine. Va bene ragazzi, per questo breve video rapidissimo registrato al volo per darvi le mie prime impressioni sulla nuova MT-09 è tutto. Come al solito se il video vi è piaciuto, vi è stato d'aiuto e vi è risultato interessante, non dimenticate di supportare il canale lasciando un bel mi piace qui sotto. Commentate, condividete il video, iscrivetevi al canale. Molto importante perché la maggior parte di voi che guardate i miei video non siete iscritti al canale. Seguitemi su Instagram e noi ci rivediamo come al solito in un prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!